buongiorno popolo del bandito buon venerdì 26 di aprile buona operazione sterzata a tutti adesso ne parliamo insieme come al solito un like al video l'iscrizione al canale dobbiamo arrivare a 15 mila velocemente campanella per le notifiche e partiamo subito perché c'è l'operazione sterzata in atto cos'è l'operazione sterzata l'operazione sterzata è una geniale diciamo battuta trovata nel video di ieri di mauro summa che è diventato virale in cui definisce operazione sterzata lui resta sul vago ovviamente prendere un giocatore o non giocatore che sappia sostanzialmente compattare il mondo milan così depresso e così in questo momento in difficoltà diciamo a vedere delle prospettive positive insomma un uomo forte un uomo che dia un senso di sicurezza e di ambizione alle aspettative del milan quest'uomo ovviamente è bastato aprire ieri x per vedere che conte al milan è rimasto praticamente primo in tendenza per tutta la giornata c'è stato proprio un'autentica mobilitazione del dei social dei tifosi del milan a diciamo a spingere la società magari ancora divisa al suo interno verso Antonio Conte allenatore io sapete come la come la penso sapete che penso che oltre a questo ci vuole ben altro per riuscire a diventare il prossimo anno competitivi per la vittoria servono soprattutto regole nuove ma questo sapete il mio pensiero lo sapete benissimo non sto a ripetervelo anche questa mattina entrando nel dettaglio ovviamente io non lo so se Antonio Conte sarà la soluzione quella giusta per i risultati che arriveranno per avere dei risultati so però e questo lo dico anche da alcuni giorni che è la soluzione giusta per non partire già perdenti la prossima stagione perché perché dopo questa mobilitazione voi dovete pensare che cioè ieri c'è stato proprio un'onda social che ha percorso e che ha dominato tutta la giornata no un chiaro segnale un segnale di reazione anche del mondo milan che ha scelto ora abbiamo visto quest'anno cos'è successo praticamente per tutta la stagione a partire dal 5 a 1 dell'andata quindi sì tutta la stagione perché mi sembra fosse la quarta giornata il derby questa onda di pioli out che ha invaso praticamente quotidianamente a ogni mezzo passo falso insomma partiva questa onda che destabilizzava l'ambiente che che creava ha creato probabilmente anche problemi sia l'allenatore stesso che poi a un certo punto probabilmente ci ha capito poco sia alla squadra perché probabilmente si sono tolte sicurezze certezze insomma piano piano è sfuggito tutto dalle mani no quindi immaginiamo cosa potrebbe capitare se dopo questa onda mediatica e onda social vera e propria tsunami rosso nero che sta praticamente imponendo la scelta al milan immaginate cosa succede se arriva un lopetegui qualsiasi ma non parlo solo di lopetegui in quanto lopetegui che per magari è bravissimo non lo so ma lopetegui o chi per lui chiunque non sia antonio conto lo stesso dei zerbi insomma abbiamo visto che ultimamente i risultati del suo brighton sono tutt'altro che esaltanti quindi quello poteva essere un'opzione che un po di tempo fa poteva anche avere presa su tifo rosso nero ma non penso che in questo momento sarebbe digerito tiago motta poteva esserlo ma sembra ormai accasato in direzione juventus non rimane non rimane che che conte conte libero quindi i tifosi del milan si chiedono se è libero è il migliore sulla piazza sto ragionando come sta ragionando il tifo milanista sapete che io fatico a giudicare gli allenatori prima di vederli insomma un allenatore può incidere ma anche può non incidere o può incidere male o può incidere per bene però dipende da tante cose da tanti fattori dal supporto della società dalla squadra dalla sintonia che si crea con la squadra quindi io non ho pregiudizi su da questo punto di vista però il tifo milanista ha scelto e chiunque non fosse conte sarebbe una partenza assolutamente difficile immaginate la prima amichevole che va male con la prima partita di campionato che magari si stecca insomma sarebbe un qualcosa che penso non tanto i bra che alle spalle larghe però ecco ad esempio potrebbe risorgere già qualche problema nel caso fosse vero che i bra ha scelto anche lui conte presentarsi con un altro ecco che conoscendo i bra insomma potremmo avere già un grosso problema è una grossa mancanza perché io non credo che i bra accetti in questo momento serenamente di essere scavallato diciamo nella scelta dell'allenatore su lui ha scelto conte insomma non ce lo vedo i bra a uno che troppo molto diplomatico che scende troppo compromessi cardinale cosa deciderà cardinale dipenderà d'acqua da come vorrà tenere da conto diciamo l'umore del popolo rosso nero da come darà importanza alla scelta libra e insomma da è una prova difficile questa anche per cardinale perché probabilmente conte andrebbe a intaccare quelle che sono no le rigide rigidissime diciamo idee riguardo a sostenibilità bilancio costi conti insomma penso che un qualcosina andrebbe a mettere un po' no in difficoltà diciamo il management che ragiona invece in quell'unica direzione però se vogliono fare calcio se vogliono fare il calcio a milano se vogliono fare il calcio con i tifosi del milan insomma devono capire che la passione e l'amore per la squadra il desiderio di vincere non possono essere messi in secondo piano neanche davanti a un mero discorso esclusivamente economico quindi sarà molto interessante vedere come si definirà questa situazione ma io oramai sono convinto che se non vogliamo buttare all'aria già ancora prima di iniziarla la prossima stagione la scelta alla fine dovrà andare in quella direzione altrimenti si assumerebbero grossi 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 rischi quindi vedremo se questa operazione sterzata inventata nel video da mauro summa ieri non so se si riferisse a conte ma tutti gli indizi portano a quello vedremo se si attuerà per chiudere due cose veloci molto strano il gol subito dall'udinese ieri all'ultimo minuto molto molto strano quanto meno strano speriamo tanto che il giocatore dell'udinese sia scarso e e poi la notizia passata ieri sotto hanno cercato di tenerla abbastanza sotto silenzio quella di bloomberg che ha detto che è tutt'altro che fatto l'accordo con con pinco pallino anzi l'accordo con pinco è quasi saltato adesso resta solo quello con pallino vedremo vedremo cosa ne inventano magari oggi nell'arco della giornata ne inventeranno altre e intanto il tempo passa il 20 maggio salvecina e come al solito come al solito quello che ci diciamo tutti i giorni alla fine in un modo o nell'altro ci siamo capiti e speriamo che non gli ignorino il pullman scoperto entro domenica ecco scoperto no magari copritelo che piove perché però ecco fate veloci perché vorrei ve lo pignorassero più tardi ovviamente anche con le novità di formazione per juventus milan perché comunque sia ancora da giocare e c'è juventus milan a dopo